Leonardo Silva Revisore Fin da quando ero piccolo ho sempre apprezzato la bellezza che si può osservare in natura. E in particolare sono sempre stato affascinato dalle forme e colori che si possono osservare attraverso gli insetti, in particolare i coleotteri. Io sono di Como e passavo tutte le mie estati a cercare di prendere questi cervi volanti, quelli in mezzo, che erano fantastici quando volano, ce ne sono sempre di meno qua intorno. E sono finito a lavorare in California con un altro insetto, uno che senz'altro voi adorate anche, la zanzara. Quello delle zanzare è un problema enorme perché ogni anno causano quasi un milione di morti sulla terra. Tra tutti gli animali sono i più mortali e ci lasciano al secondo posto nella classifica dei killer. Le zanzare di per sé sono innocue, ci danno noia, sono fastidiose, però sono innocue. Il problema è che sono vettori di parassiti e virus che causano malattie molto debilitanti e in molti casi anche mortali. La peggiore di queste malattie al momento è la malaria. La malaria è causata da un parassita che si chiama Plasmodium. E queste zanzare non sono nate con il Plasmodium, devono pungere qualcuno che è infettato per poi trasmetterlo ad una persona non infetta ed è così che la malaria si trasmette da una persona all'altra. Questo Plasmodium è un parassita intracellulare. Una volta che è entrato nel nostro flusso sanguigno, si entra nei nostri globuli rossi, si riproduce all'interno e se li mangia uno alla volta ed è questo che causa la malaria. È portata da zanzare, come abbiamo detto, ma non tutte le zanzare possono portare il Plasmodium. Per esempio la zanzara tigre, che senz'altro avete sentito, non può portarla a malaria. Solamente un piccolo gruppo di zanzare Anopheles, del genus Anopheles, possono portarla a malaria. In più, questo Plasmodium è specifico per gli uomini. Questo vuol dire che non può essere trasmesso dagli animali o agli animali. In più, non può sopravvivere in una palude, in una foresta, è un parassita obbligato. Vuol dire che rimane all'interno dell'uomo e della zanzara. E questo ci dà un vantaggio perché potremmo, in teoria, rompere completamente questo ciclo, il suo ciclo di vita che è completato completamente dentro la zanzara e l'uomo. Con medicine e pesticidi potremmo rompere il ciclo e, se potessimo farlo istantaneamente su tutta la faccia della terra, potremmo debellare la malattia. Il problema è che non è così facile applicare queste medicine e pesticidi ovunque. E la malaria rimane endemica in un sacco di paesi, specialmente paesi più poveri. Ed è ancora un enorme problema, specialmente in Africa, nel centro-sud Africa, dove causa la morte di migliaia di bambini. Le persone più afflitte sono bambini sotto i cinque anni. Il plasmodium si è evoluto con gli uomini, quindi è stato con noi da millenni. Negli ultimi 150 anni abbiamo iniziato a combattere le zanzare e il plasmodium con tutti i mezzi che riuscivamo a trovare. Abbiamo usato zanzariere per bloccare le zanzare, abbiamo usato pesticidi, li abbiamo messi sulle zanzariere per cercare di ucciderle, abbiamo fumigato intere città con questi pesticidi cercando di uccidere le zanzare, e in più abbiamo sviluppato medicine sia per prevenire il plasmodium, che sto anche prendendo io perché sono stato in India la settimana scorsa, oppure per curare persone che fossero infette dal plasmodium. Tutti questi metodi stanno lentamente fallendo dal momento che li abbiamo usati per così tanto tempo, e molti esperti nel campo medico scientifico sono molto preoccupati perché per esempio le zanzare stanno sviluppando un nuovo comportamento e hanno imparato a pungerci alla sera fuori dalla casa invece che dentro mentre stiamo dormendo. In più hanno sviluppato resistenza ai pesticidi e alla stessa maniera il plasmodium ha anche sviluppato resistenza alle medicine che usiamo. E questo è anche rispecchiato nell'aumento di case di malaria che si può osservare negli ultimi 2-3 anni. Ora, non sono stato invitato qua da Gerolamo perché sono un esperto di malaria, ma perché sono un esperto di ingegneria genetica. E prima di parlarvi del nuovo strumento che stiamo sviluppando in California usando la genetica per combattere la malaria, faccio un piccolo rinfresco di genetica di base. Le zanzare, esattamente come noi, hanno due copie del genoma, uno che viene dalla mamma e uno che viene dal papà. E se prendiamo una zanzara che è blu, perché ha un gene blu, diciamo che venga dalla mamma questo gene blu, questo gene blu, una volta che la zanzara blu si accoppia con una zanzara nera, ha il 50% delle probabilità di dare questo gene blu alla sua progenie. Quindi solamente la metà dei figli di questa zanzara saranno anche loro blu. E generazione dopo generazione questo gene blu rimane nella popolazione con una certa frequenza, seguendo le leggi dell'eredità di Mendel. Mentre io stavo lavorando sul mio dottorato a San Diego, mi sono chiesto che se avessimo un gene verde che invece potrebbe in qualche modo convertire quel gene nero che viene dall'altro genitore ad essere anche lui verde, com'è che questa eredità di Mendel sarebbe modificata? La zanzara verde ora ha due copie di questo gene e se si accoppia con una zanzara nera non ha il 50% delle probabilità di darlo ai figli, ma tutti i suoi figli avranno una copia di questo gene verde. In più, dal momento che ha questa capacità di copiarsi sull'altra copia del genoma che viene dall'altro genitore, generazione dopo generazione, la frequenza di questo gene verde aumenterà nella popolazione fino a che l'intera popolazione non avrà questo gene verde. Questo tipo di eredità è stato studiato da quasi cent'anni, si chiama gene drive ed occorre in natura. Quindi ci sono diversi meccanismi che possono generare un'eredità aumentata, tipo questa che stiamo cercando di fare. in California quello che noi abbiamo fatto è generare un gene drive che è completamente sintetico, quindi completamente fatto in laboratorio, che può essere usato per modificare, per essere inserito in qualsiasi punto nel genoma della zanzara. Abbiamo fatto così usando una nuova tecnologia che è stata sviluppata recentemente, che si chiama CRISPR, e i due componenti basi della tecnologia CRISPR si chiamano Cas9 e guide RNA. La Cas9 è un enzima ed è come se fosse una forbice molecolare, è fatta per tagliare il DNA. Mentre il guide RNA è come se fosse un indirizzo, dice esattamente alla Cas9 dove tagliare. Abbiamo preso un gene per la Cas9 e un gene per il guide RNA e l'abbiamo messo in mezzo a una sequenza di DNA che è esattamente uguale a quella del genoma di una zanzara. Questo pezzo di DNA sintetico, circolare, che si chiama plasmide, è stato iniettato dentro le uova delle zanzare e funziona in questa maniera. La Cas9 e il guide RNA si uniscono, il guide RNA dice esattamente alla Cas9 dove tagliare e tagliano il genoma ad una certa posizione. A questo punto la cellula non può sopravvivere col DNA rotto e quindi si guarda in giro, trova una sequenza che è uguale e la usa come templato per correggere quel taglio. E quindi in questa maniera riusciamo ad inserire la Cas9 e il guide RNA esattamente a quella posizione. E' così che abbiamo creato la prima zanzara trasgenica con questo metodo. Cosa succede subito dopo? E' che l'altra copia del genoma, quella che è il gene nero, con la stessa maniera adesso viene tagliata sempre dalla Cas9 del gene RNA che adesso sono dentro nel genoma della zanzara e viene copiata nella stessa identica posizione sull'altra copia del cromosoma. esattamente quel gene verde che volevamo fare. Ora voi direte non è che vogliamo fare le zanzare verdi o le zanzare blu, gli vogliamo dare una caratteristica che possa aiutarci nella lotta contro le zanzare. e per questo io e il mio mentore Ethan Beer che stavamo lavorando su questo gene drive, ci siamo messi in collaborazione con un altro professore dell'Università della California di Irvine che invece aveva sviluppato una seconda cassetta genetica che rende le zanzare immuni al plasmodium della malaria. Queste zanzare di Tony, una volta che pungono qualcuno che ha il plasmodium, non possono trasmetterlo a una persona non infetta. Com'è che funzionano queste zanzare che questo ricercatore ha generato? Quando le zanzare si fanno una bella bevuta di sangue e si mangiano anche i plasmodi nel frattempo, questi plasmodi devono uscire dallo stomaco e entrare nel sistema linfatico della zanzara. Queste zanzare sono però modificate così che producono degli anticorpi, tra l'altro sono anticorpi umani, quindi c'è una cassetta genetica nella zanzara che produce anticorpi umani, che bloccano i plasmodium mentre stanno cercando di uscire dallo stomaco. Se anche uno di questi plasmodium riesce a uscire nel sistema linfatico, c'è un secondo anticorpo che è lì pronto con una tossina per ucciderlo, prima che riesca ad arrivare alle ghiandole salivari dove deve arrivare per essere trasmesso alla prossima persona. Quello che abbiamo fatto è abbiamo combinato il nostro gene drive sintetico con questa nuova caratteristica. perché abbiamo creato queste zanzare. Queste zanzare hanno, in teoria, la capacità di modificare l'intera popolazione del mondo delle zanzare anopheles ad essere completamente immuni alla malaria e nel giro di un anno potrebbero debellare la malaria completamente. Ora, come abbiamo detto prima, la realtà è sempre un po' diversa e quindi fare un'applicazione del genere in tutto il mondo è molto complesso, la genetica delle zanzare è complessa e anche quella dei parassiti è molto complessa. Quindi questa tecnologia andrà a supplementare l'uso di pesticidi e medicine e vaccini che sono in sviluppo. Alcuni di voi si saranno chiesti, come anche altre persone, ma non è pericoloso modificare un'intera specie, giusto? Non è che può avere delle implicazioni sull'ecosistema che non sono previste. Queste sono senz'altro delle domande che ci dobbiamo chiedere quando facciamo l'applicazione di una tecnologia così potente. Ma vorrei mettere le cose un pochino in prospettiva e comparare questo gene drive a quello che stiamo usando tutt'oggi per combattere gli insetti. Un ecosistema è un sistema molto complesso, ci sono molti nodi e al momento rovesciamo tonnellate e tonnellate di pesticidi nell'ecosistema cercando di uccidere questi insetti. Le zanzare sono uno di quelli, altri sono pesti di agricoltura o anche, non so, le formiche che ti entrano in casa e non ti danno fastidio e le vuoi uccidere. E facendo così non vai a colpire solamente l'insetto che non ti piace, vai a colpire tutti gli insetti di un intero ecosistema e in più hai un effetto indiretto su piante e animali che hanno delle relazioni con questi insetti, per esempio animali che si mangiano gli insetti. Quindi un gene drive non ha un effetto del genere. Un gene drive è una cosa che è squisitamente specifica per una sola specie, quindi un solo anello all'interno di un ecosistema. E in più non è che lo rimuoviamo, gli diamo semplicemente una caratteristica leggermente diversa così che non possa portare il parassita che ci annoia. E con il riscaldamento climatico e la globalizzazione questi insetti si stanno muovendo di continente in continente e ogni anno stanno sempre venendo più a nord. e portandosi con loro sono anche queste malattie. La malaria in Italia è una cosa che accade molto sporadicamente, ma senz'altro avete sentito la paura che ci siamo presi con la zika un paio d'anni fa. E altre malattie come la dengue e la chikungunya stanno diventando un serio problema in tutto il mondo. e quindi io sono convinto che questo gene drive sia un nuovo strumento a nostra disposizione che potremmo usare per una lotta sostenibile contro queste malattie. Grazie. Grazie.